buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo video ovviamente news e mercati questa mattina che parla di un diciamo di una situazione particolare perché abbiamo appunto il due breakout molto importanti tra cui volevo far vedere audi usd che ha ritracciato no vedete negli ultimi negli ultimi giorni accarezzando anche la 200 periodi vedete ha ritracciato verso il basso e ora cosa sta facendo sta in questo momento arrivando anzi facendo il breakout proprio qui su questa zona che io vi ricordate che io vi avevo detto guardate questa è la zona di supporto molto forte infatti vedete è sceso giù e poi è ritornato quindi questo falso breakout che poi vedete anche gli spike no di veramente di esaustività di mercato adesso cosa è successo che questa lateralità è andata a rompere quindi la soglia dei 0 diciamo 68 e diciamo questa barriera che noi ci aspettavamo già da tempo di che ecco con anzi con 1 2 con 3 sessioni è riuscita a rompere quindi noi da molto tempo perché stiamo aspettando già da qui no quindi da praticamente più della metà di agosto intorno alla metà di agosto che noi aspettavamo il breakout di questa zona no dei 67 e 90 quindi dei 68 di 0 68 dollari vedete come sta anche in questo momento rompendo questi massimi cosa succede che rotti questi massimi ovviamente il prezzo va diciamo a una continua a una continuazione di mercato quindi potrebbe continuare ad andare verso dove ovviamente mettendo fibonacci potrebbe tornare sul 61 per cento e guardate un po questo 61 per cento a cosa corrisponde a questa zona se vi ricordate che avevamo messo a suo tempo che sono che è una zona di forte supporto infatti guardate mettiamo una linea un attimo per farvi vedere un attimo ecco questa ecco questa confluenza la confluenza sui vedete sui 0 69 e 250 in circa quindi questa zona è confluenza con un ampio un ampia diciamo lateralizzazione perché vedete il prezzo si è appoggiato guardate qui si è appoggiato qui si è appoggiato anche in in questa azione no quindi vedete come il prezzo è ritornato sempre su dopo aver testato questa zona qui quindi si è appoggiato più volte addirittura qui vedete si è si è avvicinato molto no su questi prezzi che poi erano il 78 per cento di questa vedete di questo ritracciamento quindi probabile che il prezzo potrebbe arrivare fino al 61 per cento per poi ritracciare verso il basso questa azione che potrebbe fare il prezzo ovviamente è anche configurabile con una una fine diciamo di questo ciclo di lungo periodo vedete questo è un ciclo molto importante perché rappresenta veramente una forza vedete che ciclo importante è questo di lungo periodo è un ciclo che potrebbe vedete che potrebbe terminare in questo momento dopo questa esaustività guardate già la prima visaglia di questo ciclo ribassista comunque c'è stata c'è stata quando c'è stata in questo momento vedete sui verso diciamo i primi giorni no dell'anno vedete c'è stata una prima visaglia e dice guardate il prezzo vuole andare su però poi è continuato a scendere continuato a scendere stiamo parlando del mensile andiamo a vedere proprio magari un settimanale un mensile vedete come quindi la prima visaglia è stata questa perché il doppio minimo praticamente è questo a 0 68 diciamo ok che è poi questa zona vedete dove sta adesso rompendo questa a livello settimanale questa candela no quindi cosa mi aspetto io infatti mi aspetto un allungo del prezzo verso i minimi a 0 69 c'è il rientro di questo di questo ciclo quindi potrebbe questo essere una una falsa rottura no di questo doppio minimo ok ma sotto certi aspetti è anche un arrivo importante scusate ecco qua è anche un arrivo molto importante anche dal punto di vista strategico perché perché guardate questo qui rappresenta anche perché il minimo diciamo che si è venuto a toccare no nel nel 2008 vedete a 0 61 è un minimo esattamente molto importante e il prezzo voleva andarlo a toccare però ovviamente molti vedete molte molte volte si è ecco con questa diciamo questo prezzo qui e questo prezzo qui hanno fatto in modo tale di diciamo rallentare lateralizzare vedete come lateralizza qui il prezzo non va a scendere di più ha lateralizzato proprio come se fosse infatti un fine ciclo ok cosa succede ma bisogna vedere anche questo che qui però vedete il prezzo è come se fosse rimasto comunque sopra perché ha rotto ma ha rotto in maniera molto soft vedete poi è ritornato il prezzo subito dopo vedete come questa è stata una tra virgolette sul mensile potremmo vederla come falsa rottura quindi c'è stata una lateralizzazione di diciamo in questo ambito che potrebbe sempre aver messo come zona molto forte proprio questa trend scusate questo livello statico che abbiamo messo sui 0 diciamo 69 dollari ok quindi cosa mi posso aspettare qui perché qui è stato è stato fatto la stessa identica cosa vedete è stata rotta questa diciamo neckline di vedete aspettate che ve la faccio vedere ecco qui è stata rotta all'inizio questa neckline di questo diciamo di questa flag è stata rotta testato il minimo e ora il rialzo cosa succede che qui io posso aspettarmi quindi uno scenario rialzista uno scenario rialzista che potrebbe avvalorare anche il ciclo che questo ciclo che potrebbe essere finito no quindi cosa succederebbe succederebbe che il nostro rialzo fino ai 0 69 potrebbe essere non solo l'incipit stiamo vedendo sul settimanale ragazzi adesso è l'incipit di un rialzo più grande perché rotti questi 0 69 si potrebbe arrivare a questo rettangolino qui che sarebbe vedete che corrisponde anche al 113 per cento no vedete del dell'estensione di questo ritracciamento che abbiamo visto adesso ma potrebbe anche invece continuare a stabilizzarsi interno a questo prezzo ok quindi questo è quello che posso immaginare sull'audi usd che ma diciamo questa cosa è strettamente correlata poi allo us dollar cioè nel senso il dollaro cosa sta facendo sta lateralizzando non sta lateralizzando e questo possiamo vederlo anche su diversi aspetti su diversi ambiti tra cui quello di andarlo a contestualizzare diciamo ecco diciamo così sui vari altri cross per esempio la sterlina guardate a livello settimanale la strina cosa ha fatto questo è un segnale molto forte ragazzi è un segnale molto forte di esaustività di mercato che va verso l'alto che spinge i prezzi verso l'alto spinge i prezzi dove a rompere questa barriera che poi possiamo vederla anche come vedete un praticamente un triangolo vero e proprio vedete una rottura di questa e facendo un'inversione di questa zona per arrivare il più possibile dove prima ritestare no la zona degli 1 e 26 poi ancora più su quindi nell'odierno facendo diciamo un'analisi un po più contestualizzante diciamo vedete come la rottura di questi di questi massimi a 1 e 23 e diciamo 1 22 e 90 vedete no questa rottura di comunque di questa di questa resistenza sugli 1 e 23 500 e 600 potrebbe garantire un rialzo almeno come target fino a 1 e 26 e 50 ovviamente ragazzi questo come dice nel disclaimer non è nient'altro che una mia analisi una mia news un mio modo per presentarvi il grafico sia a livello didattico che a livello di news di notizia ok quindi nel momento in cui io possa immaginare uno scenario rialzista di questo tipo ovviamente lo posso vedere anche dove nel in una in un clima di volatilità app a proposito volevo anche far vedere una cosa in questo momento ci sono anche non è arrivato il prezzo ancora vedete nell'esaustività nella forza relativa quindi significa anche che questo potrebbe aumentare diciamo in maniera vehemente quello che sono comunque il con anche una leggera divergenza sinceramente leggera ma c'è una uno scenario di forte rialzo comunque ok quindi parlando di volatilità parlo anche di euro dollaro che in questo momento vedete ha fatto quello che ci aspettavamo io cosa vi avevo detto guardate c'è un pattern armonico di lungo periodo abbiamo un sentore di divergenza anche a livello rsi di breve avevamo un point of control che ancora continua vedete ad essere vigente e a trovare in questo momento oltre a questo prezzo che è stato gli 1 e 10 vi ricordate un 1 e 10 è stato un prezzo veramente forte che stava praticamente qui sotto quindi rialzo del dell'euro come vi avevo preannunciato e ancora ancora un arrivo che potrebbe gli 1 e 11 potrebbero avere potrebbero dare proprio questo arrivo in questa zona ragazzi questa è una zona formidabile ragazzi questa è la zona in cui mi aspetto il prezzo per andare verso l'alto in maniera veemente arrivare dove sul lungo periodo arrivare in una azione del prezzo che potrebbe appunto spingere diciamo su gli 1 e 13 il nostro target primo target sul sull'euro quindi questo è perché perché ci aspettiamo ovviamente un'azione di abbassamento tra virgolette e quindi del del dollaro ok in questo momento dopodiché ovviamente è in linea di massima vedere anche per esempio quello che sta succedendo con l'oro perché andando a defluire in maniera costante diciamo il dollaro l'oro dovrebbe no andare a dovrebbe andare a a rialzarsi in maniera vehemente però ovviamente non può avere una diciamo un rialzo frenetico quindi l'oro che cosa sta facendo stamane sta ritracciando come avevo come vi avevo detto perché dopo un un'azione ovviamente di reazione anzi è molto forte del prezzo ovviamente un ritracciamento ci vuole un ritracciamento che potrebbe arrivare vedete a ritestare questa zona no dei 1520 1530 in questa zona qui ok ritestare il band ring per poi continuare la sua corsa fino a dove al nostro target no che abbiamo di diciamo di lungo periodo vedete che è questo cioè il 161 per cento praticamente sarebbe che perché abbiamo già testato il nostro il nostro target quindi di diciamo di medio periodo ora mi aspetto un prezzo intorno al 161 per cento di questo di questo anzi di questa estensione per arrivare proprio sui 1600 tra i 1640 1650 diciamo dove ecco esattamente a 1650 vedete come il prezzo guardate il 161 esattamente a 1650 quindi questo è il prezzo in cui mi aspetto nel lungo periodo il dollaro perché vedo rialzista il dollaro scusate l'oro e ribassista il dollaro proprio per un discorso che vi avevo detto di selezione di quello che sta avendo dal punto di vista economico diciamo gli stati uniti e di conseguenza anche dei valori molto forti di di sostenibilità e quindi di diciamo di sicurezza che hanno gli investimenti dove su quelle su quelli su quei diciamo su quei strumenti in cui noi ci rifugiamo nei momenti di incertezza e di stabilità cioè l'oro lo yen e ora da poco sta arrivando anche no è arrivato anche il bitcoin perché voglio darvi uno sguardo un attimo al bitcoin perché il bitcoin sta facendo quello che noi ci aspettavamo cioè nel senso stanno ricominciando i volumi e il bitcoin sta arrivando praticamente su il 078 cioè su questi 11.700 in cui noi ci aspettavamo adesso un piccolo ritracciamento fisiologico ci deve essere per poi continuare questo poi lo guarda lo vedremo poi per chi magari mi vede tutti i giorni alle 10.45 sul sul canale trend online ne parleremo tra un pochino proprio lì sul per quanto riguarda le criptovalute quindi un un discorso molto importante che dobbiamo fare è come qua quanto può essere stabile la situazione e quanto può essere invece ancora più stabile nell'ambito azionario quando i tassi di interesse il taglio dei tassi può favorire il diciamo lo sviluppo aziendale perché parliamo di tassi di interesse tagliati dalla fed parliamo anche di un probabile sviluppo verso l'alto nell'ambito azionario ragazzi non non prescindiamo il fatto che la politica economica statunitense è solo in questo momento per rendere diciamo più mercato no più diciamo economicamente parlando avere un po più di cash flow no nel e comunque andare a stazionare l'inflazione ma più che altro può essere volto questo questo taglio e anche ad ottobre io mi aspetto almeno o una stabilità o un altro taglio proprio per favorire l'economia aziendale perché le aziende sono il motore in questo momento e sono sempre state il motore degli stati uniti ma anche di di quello che è anche il sistema mondiale se si aiutano le imprese si aiutano anche di conseguenza il la moneta a rialzarsi si aiuta il cash flow quindi ragazzi andiamo a vedere questo infatti guardate apple che negli ultimi giorni è riuscito ad andare verso l'alto e quindi continuiamo a vederlo in questo senso ok bene ragazzi vi ringrazio molto buon trading a tutti da cristian ciuffa ciao ciao